E' una partita senza storia, quella tra il Don Bosco Manduria e la terza. 4 a 0 per i Messapici, un monologo dei ragazzi di Frascella sulle ali di Riezzo e Gennari che si cercano, si trovano e trascinano. Punizione del 7 per il 10, un cross che diventa quasi un tiro in porta in avvio e dominio dei padroni di casa. Azione personale di Riezzo, entra in area ma la deviazione di Mero non è precisa. Al minuto 18, Cazzolla mette in moto il solito Gennari, salta l'uomo sull'assist, c'è scritto spingere prego, denitto puntuale, timbra il cartellino e festeggia il suo quarto gol stagionale. Gli ospiti fanno fatica e Manduriani al 27esimo trovano ancora la via della rete, questa volta ci pensa De Pascalis, sua la deviazione sottomisura il primo gol da quando è tornato in maglia giallo-blu. Ancora Don Bosco con Riezzo dai 25 metri, la sfera si abbassa e lambisce il palo, l'unico acuto della terza nasce dai piedi di Stano sulla risposta di Pastore. Conforte si fa ipnotizzare e un tiro al bersaglio, sempre Gennari, sempre con la pettorina dell'uomo assist, confeziona per De Pascalis che fa 3-0 al primo tempo. Nella ripresa Gennari ci prova a giro ma non basta per impensierire l'estremo difensore. Dialogano Riezzo e Gennari, ne salta uno, poi due, altra conclusione, ma San Luce dice di no. Si alternano e si cercano, questa volta è Riezzo al volo che non inquadra lo specchio della porta. Al quarantesimo firma il poker e il sette di casa, combinazione con il solito Gennari e poi incrocia sul palo opposto. 4-0 finale con tre assist di Gennari a referto, 15 punti in classifica a quattro lunghezze dal Ceglie. Capolista adesso viene il bello.